Andiamo adesso a Portogruaro dove i residenti da tempo segnalano difficoltà a ricevere il segnale RAI. L'azienda oggi ha avviato il monitoraggio e vediamo com'è andata. Due giorni in giro per il Veneto orientale, ore di rilevazioni per verificare il segnale radio televisivo nel comune di Portogruaro. Risultato? Il segnale RAI c'è, forte e chiaro. Eppure gli abitanti della zona, da quando l'Europa ha imposto il passaggio al digitale terrestre, segnalano problemi nel vedere alcuni canali del servizio pubblico. Il messaggio che è stato dato all'inizio come campagna pubblicitaria era che in questa svolta epocale non serviva modificare e cambiare l'antenna, cosa che poi non si è verificato. Tutte le antenne, quasi tutte nella nostra zona, hanno avuto bisogno di intervento tecnico. I problemi sono diversi. Vedo tutti i canali della RAI e anche i canali digitali, però su RAI3 prendo quella della regione sbagliata. Vedo la RAI e diciamo che tra i canali quelli più stabili sono RAI1, RAI2 e RAI3, mentre gli altri, quelli sul digitale, sono spesse volte disturbati. Mi ammora qui e non la vedono per niente. I problemi ricontrati a Portogruaro non dipendono da inefficienze dell'azienda, sottolineano i tecnici della RAI, ma dalla riassegnazione delle frequenze e dal fatto che molte antenne sono orientate verso il Friuli. Questo fatto ha determinato che alcune situazioni di impianti d'antenna non sono stati più adatti alla ricezione delle nuove frequenze. Per la risoluzione è abbastanza semplice, anche se onerosa ovviamente, bisogna modificare l'orientamento delle antenne.